La siccità che perdura da mesi sta causando gravi problemi agli apicoltori, oltre che agli agricoltori. Ne sa qualcosa Istvan Sharoshi, che in Ungheria, vicino alla capitale Budapest, si occupa di un'ottantina di colonie di api, ognuna delle quali, contrariamente a quanto dovrebbe accadere in questo periodo dell'anno, resta ancora vuota, come ci mostra lo stesso Sharoshi. Mentre le piogge sono state irregolari nella parte occidentale del paese, qui la siccità fa sì che i fiori non producano quasi più nettare e polline e le api stiano morendo di fame. Secondo Sharoshi, la situazione è catastrofica. Gli apicoltori che vendono lotti in barili sono in qualche modo compensati da un buon raccolto di acacia, Tuttavia, per gli apicoltori di mercato, dove è importante avere una grande varietà, è molto negativo offrire ai clienti soltanto uno o due tipi di miele. Non so come faranno a superare quest'anno senza avere scorte dagli anni precedenti. Sono apicoltore da 13 anni e non ho mai visto una tale siccità. Le 5 milioni di api circa che vivono qui consumano fino a 30-40 litri di acqua al giorno con il caldo, ma la mancanza di nettare e polline fa sì che abbiano poca prole e siano più aggressive del solito. Il vicino campo di girasoli dovrebbe brulicare di api in questi giorni, ma di fatto se ne vedono poche. Quelle che volano di qui in genere oltrepassano i fiori senza fermarsi, perché non trovano cibo. Gli agricoltori finora non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto pubblico per compensare gli effetti della siccità. Questi girasoli avrebbero dovuto crescere fino a circa due metri, ma a causa della siccità sono alti circa la metà. Le api avrebbero dovuto recuperare dai campi circostanti abbastanza nettare per produrre 25 kg di miele, ma ora non ne hanno praticamente più. Adam, Euronews, Tura.